La crisi del bradisismo risale ormai da anni ma è dallo scorso agosto che l'attività sismica si è particolarmente intensificata. Negli ultimi 12 mesi gli eventi tellurici sono aumentati con epicentro sia a terra sia a mare con intensità basse tanto da non essere sentiti dalla popolazione ma anche di magnitudo più elevate con scosse avvertite nitidamente pure in più quartieri di Napoli. Da un anno a questa parte il suolo si è alzato di circa 24 centimetri e l'attività di bradisismo è ancora in essere. Gli scienziati infatti non escludono altre scosse significative così il direttore dell'ingv Mauro Di Vito. Continua la sismicità, continua la sismicità nelle aree che sono maggiormente caratterizzate da questa deformazione fragile e quindi rotture, fagliazioni in qualche modo e quindi terremoti. I terremoti continueranno con questo tasso di deformazione del suolo dobbiamo aspettarci altri terremoti. Abbiamo avuto un 4 e 4 e sappiamo bene che è un evento che può accadere e quindi anche leggermente superiore però c'è da dire che sono eventi molto molto più rari rispetto al gran numero che è più del 90 per cento dei terremoti che sono di magnitudo inferiore a 1. Direttore qui agli ngv operativi H24 anche ad agosto cosa monitorate nello specifico. Quello che noi continuiamo a misurare è oltre ai terremoti alla deformazione crostale è anche la forte emissione di gas al sottosuolo e quindi l'energia termica in generale che ci dà l'idea dell'energia che è il motore di questo sistema e di questo bratesismo. Continuiamo a monitorare con un grandissimo numero di stazioni la deformazione crostale integrando questo anche con date a satellite proprio per avere sempre un'idea precisa di quello che avviene a terra ma abbiamo anche stazioni a mare ovviamente che sono nel golfo di Pozzuoli. Il bratesismo fa sentire i suoi effetti anche su un'infrastruttura strategica come il porto di Pozzuoli in attesa dei lavori deliberati dalla regione e i dati che fornisce il direttore di Vito indicano che bisogna intervenire al più presto. Siamo sui 130 centimetri di deformazione dal 2006 quindi insomma immaginiamo certo questo viene dopo una fase di subsidenza cioè di abbassamento del suolo però è chiaro che ora siamo a più di 30 centimetri oltre quello che è stato raggiunto nell'84 e il nuovo molo di Pozzuoli e si vede molto bene al porto il vecchio molo più in alto e il nuovo molo più in basso evidentemente avrà bisogno di adeguamenti come è stato fatto allora.